Per formattare proprio da zero il computer, quindi fare un ripristino, ovviamente in questo tutorial ti faccio anche vedere la parte dove registra con il telefono, dove fa tutta quella reimpostazione, tutto quel ripristino, tutto da capo. Quindi in questo caso vai direttamente a scrivere qua sopra, reimposta, reimposta il pc oppure ripristino. Opzione di ripristino. Ripristina le impostazioni di fabbrica del pc, formattare tutto da zero e cancellare qualsiasi cosa. Ripristina il pc. Mantieni i miei file oppure rimuovi tutto. Facciamo una reinstallazione locale, cambia impostazioni e basta. Ora che bisogna fare qua, pulire i dati, rimuovi solo i file personali, questa opzione è più veloce ma meno sicura, io metto no. Reinstalla Windows da questo dispositivo, scarichiamo e reinstalliamo di nuovo Windows 11 e adesso la parte più importante, eliminare i file da tutte le unità. No, solo unità di Windows. L'unità di Windows è questa qua, disco locale C. Se invece metti sì, sì tutte le unità. Formatti da zero tutte le unità, quindi formatti tutti i dischi che hai sul tuo computer. Quindi qua devi mettere no, se vuoi formattare solo questo. Fai una conferma e poi fai successivo e comincerà poi a scansionare e fare un lungo caricamento e poi il computer si riavverà da solo. Per la reinstallazione ci vuole veramente parecchio, ci ho messo due ore e trenta minuti come puoi vedere qua sopra non c'ho quasi nulla. Ho formattato il mio computer, se vai a vedere i vecchi video avevo veramente un sacco di cose qua sopra. Però ho formattato solamente il mio disco locale C. Gli altri invece ce li ho ancora, tutte le cartelle. E adesso ti faccio vedere proprio sul telefono quello che è successo. Quindi, come puoi vedere, siamo qui alla parte delle impostazioni aggiuntive. Termino un attimo con la registrazione qua sopra. Questo bisogna fare. Eliminare poi tutti i file, faccio successivo. Operazione preliminare in corso. Uscirà anche a te questa cosa del ripristino, quindi è una cosa molto semplice da fare e bisogna anche essere molto pazienti. Ed eccolo qua. Pronto per ripristinare le impostazioni di fabbrica del pc. Quindi verranno dimostri tutti i file personali. Queste sono cose mie che ho scelto di fare. Quindi sta anche a te decidere che cosa vuoi fare riguardo a se formattare solo il disco, tutti i dischi o eliminare tutti i file personali. Ed eccolo qua. Mi sta anche scaricando Windows e sta anche formattando. Poi si riavvia. Quindi come puoi vedere si sta facendo la rimpostazione 14% e ci ha messo veramente tante ore. Dopo le due ore e mezza passate, ed eccolo qua, installazione in corso. Quindi tenere il computer sempre acceso e collegato. E quindi quello che ci resta da fare è aspettare ancora l'installazione di Windows 11. La parte finale è questa. Configurare da capo Windows. Quindi metti italiano, Italia, la tua lingua, le tue email, account Microsoft. Metti tutto quello che devi mettere. Configura il tuo computer. E poi ti dirà ciao, benvenuto. Ed ecco poi il tuo sistema operativo Windows 11. Quindi come hai visto ci vuole un bel po' di tempo. Per quelli che hanno un hard disk ci vuole parecchio. Per quelli che hanno un SSD nuovo, un M2. Quindi come hai visto ci vuole un bel po' di tempo. Per quelli che hanno un hard disk ci vuole parecchio. Per quelli che hanno un SSD nuovo, un M2. Le schedine che si mettono nella scheda madre. Quelle lavorano molto meglio sulla scrittura e nella lettura. E quindi questa era la formattazione. Poi dopo un po' devi fare la configurazione da capo. Quindi devi mettere il tuo nome. Devi impostare le email. Tutte queste cose qua. Accedi al tuo account Microsoft. E poi ti dirà ciao, benvenuto su Windows. Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.